Stanno farmando lì, questo ci sta guardando dall'alto Raga Stai fermo Adesso ci vedono, dai ora moriamo Guarda, guarda Raga non ci credo, non ci credo Oggi proviamo a fare un nascondino in un match normale davvero estremo Praticamente siamo spaventapasseri, entreremo nel negozio a retail, quindi a corso commercio Nel negozio di Halloween ovviamente Ci metteremo lì fermi e spereremo che le persone ci prendano come dei manichini e vadano dritti È abbastanza difficile però l'ho visto dalla clan e secondo me è stra mega divertente Inoltre possiamo farlo molto a scenette e possiamo andare anche negli altri posti che stanno addobando a mo' di Halloween Perché ho visto che l'hanno fatto a Paradise, lo hanno fatto a Parco Pacifico, lo hanno fatto anche a Boschetto Quindi ci sono un sacco di location dove possiamo provare a fare questa roba e vedere un pochettino come va Sarebbe una sorta di nascondino di Halloween ma nascondino nel negozio di mostri Si può chiamare un po' come si vuole Stef, c'è da dire che essendo la seconda città in linea di traiettoria C'è un sacco di gente, sì Esatto Quindi non è che stiamo iniziando poi così tanto bene Ma io voglio andare dove c'è un sacco di gente, Fede, perché è quello divertente Alla fine lì devi ingannare, quindi ci devono essere dei player Però Stef sono un po' troppi Vabbè noi andiamo dritti Uno, due, tre, quattro, cinque Ma guarda Ascolta, entriamo dal retro Stef, così non se ne accorge nessuno Ma sai, secondo me qualcuno sta proprio atterrando lì Quindi c'è già un problema di fondo Devo uccidere E poi faccio il manichino Opla Sì Stef, nel tetto a fianco ci deve rovinare tutto Vero? Ok, va bene, va bene, va bene Fede Prendi la pistola Sto prendendo tutto così non ci sono più rumori Arriva Stef, eh Sì Fede, ma togliti Dove devo andare? E dove vuoi? Mi metto qua Io sono in posizione Sì, sono un manichino io Mi sono messo proprio in un punto dove ci potrebbe star bene Non ci cascherà nessuno Dai, c'è del loot qui, eh Ma dai Ma non pensate solo a sparare Venite da noi Mi prego Vi scongiuro E Stef, questo negozio A quanto sembra è stato un po' Un po' Sa che dobbiamo fare il secondo tentativo Aspetta un attimo Aspetta un attimo Che a questo Gli insegno io Una bella lezione È contento? Eh? Cioè hai rovinato il video Cosa devi andare in negozio? Perché non sei venuto a trovarci? Ti davamo anche i dolcetti Con dolcetto scherzetto Che bella roba che avevi però, eh Che bella Scusate un attimo Che altro non è venuto a trovarci? Chi era? Voglio no Io sto ancora aspettando Che qualcuno arrivi Voglio nome e cognome Panda, tu? Come la speranza È l'ultima a morire Stef Ok, poi chi c'è? Il lama? Ok, poi chi c'è? Oh, oh, da dove? Vigliacco Lì di fronte E spunti ancora Vabbè, io continuo a fare lo spavento a pass E rispetto con me Bravi, bravi Adesso non potete più andare È ridicola sta cosa Ok, facciamo il secondo tentativo? Vai, il secondo tentativo Secondo tentativo Parco Pacifico Sapete tutti che hanno fatto una casa Che è ormai completamente Fatta per Halloween Di conseguenza Andiamo lì E vediamo un po' che cosa succede Sperando che questa volta Qualcuno voglia stare insieme a noi Divertirsi Beh, dai, Stef Qui ci metteremo a fare le decorazioni nel giardino Quindi qualcuno davanti ci passa per forza Lì eravamo chiusi in un negozio Per forza io non direi proprio nulla Te lo dico Per forza io non direi proprio nulla Ok Si va Mi mette malinconia quel castello, cavolo Perché? Perché ripenso al Foskirmish Ah, per quello Ti giuro, l'ho visto e mi metto a tristezza Non ci credo Uuuuh È ancora triste, Stef Voglio stare nella nebbia io Ma, Stef, anche l'altra a fianco è Sì, sì, la stanno iniziando a conquistare tutto Uuuuh, strabello Un'arma? Stef, c'è uno sul tetto, lo sai? Sì, l'ho sentito Ma che si fa? Cioè, ci si prova Col tipo nel tetto Sta già arrivando, Stef Eh, certo che se tu Non devi metterti in un punto diverso dal mio Ha sparito la nebbia Vabbè, stai così No, Stef, non potevo Perché c'era troppa gente Oh, cavolo Tranquilla Abbiamo gente nella casa 120 Gente nella casa qui a nord E gente a tipo Non lo so, ovest, credo Una roba del genere Qualcuno ci deve avere per forza Allora, quello è appena entrato nel garage Non ci ha notato Ok, vabbè Però voglio avere qualcuno Che ci passa di fronte Questo è l'obiettivo di oggi Ma questo qua che avevamo qui Dove è finito, scusami? Non lo so, era nel tetto È sceso in casa Poi dove è andato? Che si è addormentato Si è appoggiato nel letto E si è addormentato Eccolo, eccolo, eccolo Aspetta Uno ci sta mirando Questo ci spara Non ti muovere No, aspetta Non ti muovere, Stef Combattolo sopra di noi Nessuno ci nota Dai, non ci credo Stef, Stef, Stef Dai, non ci credo Stef No, è impossibile È vero No, è impossibile Siamo i due messi malissimo Stai fermo, stai fermo Stef, no Non devi respirare in questo momento Aspetta Mi hanno buttato giù un altro Come finiscono ci noteranno per forza, però Cioè, quello c'è corso attaccato Tu l'hai visto che era attaccato a noi? Ahah Era proprio attaccato Io infatti ho detto Ci stanno lasciando Quello che ho pensato anch'io Infatti ho pensato Il Bright Bomber Quando è passato Ho detto Adesso si gira Da un colpo in testa Tutte e due Ci uccide Invece Allora, lì a nord-ovest In quella casa Manca ancora un player Perché quell'altro era ancora a terra Tu stai fermo E ci sono questi due Che li stanno appunto killando tutto Siamo dei bravissimi spaventapassi Siamo i migliori Ok Io ho paura di muovermi Quindi guardo da te Sono nel tetto loro Ok Stanno farmando lì Questo ci sta guardando dall'alto Raga Stai fermo Adesso ci vedono Dai, ora moriamo Guarda Guarda Raga Non ci credo Non ci credo Non può essere successo Non può essere successo Non può Cioè quando è corso verso di me Ho detto adesso sì Ero pronta a morire E' andato Cioè non può essere successo Sta roba Oh mio Dio Oh mio Dio Cioè ragazzi In normale sta roba E oltretutto Siamo anche messi male Perché siamo in due Siamo in due Cioè neanche dire Che era solo uno Che magari ti sfuga Fede non so Cosa dirti Cioè è passato a fianco A due spaventapasseri Non se ne ha reso conto Cioè Steph Mi ha sferato il braccio Cioè mi ha toccato Mi ha toccato Praticamente Beh abbiamo fatto Un'ottima nascondina Cioè più perfetto di così Non potevamo farlo Cioè io ho detto Poi come rasciano quelli Adesso verranno a uccisere noi Ma per forza di cose Ne avevamo uno dietro Uno di fronte Quello di fronte Ci è passato totalmente addosso Quello dietro non so Perché non mi potevo girare Fatto sta che Non ci hanno visto Se ne sono andati Beh Steph Allora quello a corso commercio È andato così così Quello a parco pacifico È stato totalmente riuscito Un perfect assoluto Cioè proprio perfezione È stato il miglior nascondiglio Volevo vedere Se questi dall'alto Ci notavano Però Non me li renderizza Non me li renderizza Quindi Boh Non lo so Cioè ma Li vado ancora però quelli A 150 Lasciali Lasciali Sì sì Ma vuoi provare a vincere il game? Così Prendiamo armi Stiamo fisso e nascosti così? Dai Beh ormai Ormai No cioè È brutto arrivare un game Che va così bene No Io sinceramente Pensavo che avremmo fatto Solo delle clip Perché ho detto Cioè la gente non è scema Ti vede Comunque siamo due skin Identiche Ovvio che ci sparano Invece A quanto pare Le mie aspettative Sono state un pochettino Ed era anche gente brava Ah zero colpi Sì no Erano bravi E visto come hanno lasciato tutto Non erano i player più scassi del mondo È stata proprio distrazione Che evidentemente Nel momento in cui non vedi un movimento Ci sono rimasti spiazzati Capito? È stato bellissimo No è stato uno dei momenti Una delle cose migliori del canale Più belli della No della mia vita Steph Perché io ero convinta di essere morta Lui che va dritto È stato uno dei momenti più belli della mia vita Te lo giuro Vabbè Mi sto prendendo i rimasugli bianchi Quello che c'è Beh attacca già qualcosa Io sono a piccone Peccato non potergli far sapere Quello che appena è successo Vabbè Mi va bene condividerlo Con i consolini No cioè gli direi Ti giuro Lo contatterei il predileo Guardati il replay in questo momento Perché davvero Devi sapere Devi sapere Non puoi Non puoi essere all'oscuro Di quello che ti è successo Guarda che potrebbero ancora ammazzarci Oh mio dio Lut Ah ok Quando dici oh mio dio Steph Mi fa intendere che ci sono dei player Che mi devo mettere in posa Quindi ti prego avvisami Ok scusami cara Perché se no poi sto in posa E sono ancora messa male A livello di loot Quindi Allora Dimmi che questo ha più colpi Sì un corno Perché c'è un vampa verde Lo cambio Il mio problema è che non ho colpi Eh manco io Steph Che ti devo dire Oh maz Ancora E che Io la pistoletta silenziata E manca Li vedo Sono sopra di noi Sei dentro casa Sì C'è terra non sopra No Devo fare lo spaventapaste di qua No no Ok Possiamo andare Ok Stavo controllando un po' la situazione Perché noi siamo fuori zona ovviamente Ovvio Loro sono vicinissimi Però noi possiamo andare Alla zona corrotta Prenderci una pietra E andare subito in zona O lì vuoi proprio uscire No Non ho colpi E allora andiamo via E ho capito Ma loro sono andati di lì eh Eh lo so Vabbè L'avranno già preso Ah no 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 Scusami Sono andati a sinistra loro Eh infatti Quello che dicevo Tu mi hai detto che stavano andando all'altra parte Andiamo 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 28 vivi Ovviamente L'obiettivo rimane molto a tema nascondino Però da ora in poi Possiamo anche sparare Difenderci No beh Mi sembra E cercare di stare nascosti Esatto Mi sembra brutto sprecare un game così È solo per quello Perché è andato troppo bene Perché è stato un capolavoro Troppo bene per essere vero Quindi Allora io faccio la combo Anche questa mi ricorda il full skirmish Eh sì lo so Io sono tristissimo Ho proprio il cuore spezzato ancora Cioè non sono riuscita a prendere una pietra Bene Ma no Stavano fuori zona E poi per sbaglio Sono andata su un cratere E mi ha sbalzato Non ha senso tornare indietro Ma faccio a piedi Ok Oh ci hanno sparato Sì ho visto il proiettile Ci possiamo prendere I così qua dei vichinghi Però spero di prendere tipo Scillo o cose del genere No pure io Sono freddo Perché ovviamente non stiamo giocando per feitare Ok E di conseguenza tipo volevo fargli colpo di pompa Bill E non ho billato Quindi mi sono preso il suo colpo di pompa No certo certo Sono d'accordo Steph Anch'io abbiamo iniziato comunque il video Anche con altri presupposti Esatto Poi è andata in tutt'altro modo Quindi Cioè Anch'io non sono proprio pronta A feitare Per la zona Dobbiamo correre Ah di già Sì 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 Ma io non ho ancora loot Non ho colpi Ne so Andiamo cara Che pompa che davvero non ne avevo Oh Steph Dov'è Dov'è il rift Ce n'è uno qua Forse anche uno qui sotto Io scivolo su questo Ok Spero di riuscire a scivolare pure io Ok Ok Boschetto è lootata Quindi credo sia inutile provare a lootare Vedi Sì 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 Ok 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 A meno che non vuoi rifare la spaventapassare nella casa Che se l'hanno aggiunta pure là Eh ma non c'è nessuno Eh ancora mi provi a sparare Da dove? Steph da tipo nord est 60 gradi Infatti mi sembra da quella casa lì Ah sì li ho visti Vero? Sì hanno prato a colpirmi Oh che c'ho il fujil La smettete o no? Steph hanno rotto un albero qua Qua sopra Perché c'è frega? Ah non vuoi andare a usciderli? Noi siamo spaventapassare Ah ok Allora ci sono tre ceste Non saranno più importanti Beh io volevo andare a uccidere Allora Vai a fare scillini M16 Basta è bianco Mi tengo il vampa Ti ho buttato 40 colpi Io mi tiro questo Sto un po' verde Un po' meglio Cioè ne dobbiamo andare adesso da qui eh Sì andiamo E ombre vogliamo? Sì Ma io non vedo ombre però No li ho visti io qua all'inizio Wow 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 Qui Steph Porca miseria Vuoi scappare o no? Che dici? Aspetta sono un po' nascosto Ma è sempre lo stesso di Tiff Di prima? Sì la stessa skin Quello che è scappato Non vedo una ceppa Steph Con sta roba Io sto scappando No 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 Che pazzi che sono sti due eh Sono scappata ma sono da tutt'altra parte Steph Perché ovviamente mi ha mollato sola Sì 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 scusami Il fatto che Comunque ti sei reso conto che sono quelli che poi non ci hanno visto a A plin Sono sempre loro? Avevano le stesse skin Steph Le stesse skin Bright Bomber è quella della Cowgirl Sì sì pensavo solo a lasciare Capito Tu muori vero? Sì Eh l'ho immaginato Eh Steph non sono riuscita a scappare No sì sì pazienza Comunque si sono gli stessi eh Mi sembrano proprio gli stessi Bravi eh Che vi ci siete passati accanto E avete fatto finta di niente Guarda è quel maledetto sempre Ho voglia di dedicarmi eh No potrebbe essere in effetti Oh non hai più shield Cucciolo Chi è stato? Lo spaventapasseri che non hai visto Lo spaventapasseri Guardalo Ma dove lo ritrovano gli shield? Nelle patatine questi Ah viene anche sparato quindi E infatti è a terra Ma dove Steph aiuto Oh cavolo Nasconditi È un buon posto questo Dove star nascosto Anche se stai leggermente fuori zona Aiuto E ora? Che brutti rumori Raga Non c'ho nulla per poter fare sta roba Non ho shield L'hanno preso Con lo sopra di me Non c'è più E si è sentito Tu zitto Stai Sentili Occhio Occhio Sembra praticamente dietro Staranno lutando Quello che hanno sniperato Ah ovvio La zona sta arrivando Quindi triccante Quindi triccante Dove voglio correre via Andatevene Poi o mai si scende qua Capito? Ovvio Perché qui sono coperto Stai fermo Non devi fare nessun suono Continuano ad essere sniperati Questi Sì infatti non riescono ad andare in zona Eh pensate allora Ti senti? Sì Che faccio? Perché sono tutti qua? Devo stare fuori zona Per forza Scappa di così esatto Fai il giro un po' più largo Li vedi? Sì Cioè ne ho visto uno molto dietro Prendo 5 al secondo No Oh mamma mia Stef Mamma mia Uffa Peccato Ci saremo riusciti secondo me Però è stato comunque divertente Quindi sono soddisfatto Ci fermiamo così Nascondino con gli spaventapassi È stato un successo incredibile Assoluto Non so come cavolo chiamarlo Mi dispiace amico Mi dispiace Un po' te lo sei meritato Delirio qua Già E ci fermiamo così Qua sotto come sempre Con per gli altri video Iscrivetevi al canale Campanellina E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao